quando sediamo nella posizione di meditazione recuperiamo la nostra fondamentale attività creativa esistono approssimativamente tre tipi di creazione la prima consiste nell'essere consapevoli di noi stessi dopo aver finito la meditazione quando sediamo in meditazione non siamo nulla non abbiamo nemmeno coscienza di che cosa siamo sediamo e basta ma quando ci alziamo eccoci lì e questo il primo passo nella creazione quando ci siete voi c'è anche ogni altra cosa ogni cosa è creata tutta in una volta quando emergiamo dal nulla quando ogni cosa emerge dal nulla vediamo tutto come una nuova fresca creazione questo è non attaccamento il secondo tipo di creazione sia quando voi agite producete o preparate qualcosa come il cibo o il tè il terzo tipo consiste nel creare qualcosa dentro di voi come l'educazione o la cultura o l'arte o un sistema sociale ci sono dunque tre tipi di creazione ma se dimenticate il primo il più importante gli altri due saranno come bambini che hanno perso i genitori la loro creazione non avrà alcun significato comunemente tutti si dimenticano della meditazione tutti si dimenticano di dio lavorano sodo al secondo e al terzo tipo di creazione ma quell'attività è priva dell'aiuto di dio come è possibile che dia il suo aiuto se egli non sa chi è ecco perché abbiamo tanti problemi in questo mondo quando dimentichiamo la sorgente fondamentale della nostra creatività siamo come i fanciulli che persi i propri genitori non sanno più che cosa fare